Si chiama Countdown to Christmas, l'operazione portata avanti dai carabinieri del comando provinciale di Lecce che negli ultimi giorni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in vista delle festività natalizie. A conclusione di un primo round sono finite in arresto 17 persone, tra questi un 21enne di Casarano sorpreso con 42,75 grammi di cocaina e l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Arrestato anche un 24enne di Alessano sorpreso a bordo di un'auto rubata sulla provinciale per Presiccia Acquarica, con sé anche una centralina elettrica ernesi da scasso, il complice che era in sua compagnia a bordo di un'altra auto, però è riuscito a farla franca. A Lecce manette per una 29enne fermata in un negozio di vietre inchiese con svariati capi di vestiario privi di placca antitaccheggio per un valore di 450 euro e un 51enne poiché sorpreso con dosi di eroina. Ancora un arresto per spaccio a Campi Salentina dove un 31enne è stato trovato con tre dosi di marijuana in auto e 32 piante in tre box riscaldati e poi ancora 33 barattoli contenenti 981 grammi di erba, nonché altre 9 bustine contenenti 18 grammi. Altri arresti e denunce per reati vari sono stati eseguiti tra Raca, Leogento, Supersano, Cavallino, Veglie, Copertino, Leverano, Squinzano, Otranto, Galatone, Martano e Santa Cesaria Terme. Nel corso delle verifiche sono state segnalate 35 persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e controllate 55 persone sottoposte domiciliari. Riguardo agli accertamenti sulle strade, invece, ispezionati 1.224 automezzi, identificate 2.104 persone, elevate 188 contravvezioni al codice della strada e ritirate 12 patenti e sequestrate 3 autovetture.